Signori, c'è un problema? La banana che si infila nel tuo corpo Tutto quel potasio Mergio Addio La banana che si infila nel tuo corpo Ehi, bello! Allora, dopo questa grossissima stronzata come mio solito del resto Vi confermo che sarò al terzo Meet the Cast a Venezia Avete capito bene, Venezia! Sabato 25 aprile alle 14 a Piazza San Marco Chiunque si dovesse trovare nei paraggi può passare un pomeriggio all'insegna dello swag con me E tutte le persone che avete visto nel trailer Ghillie Comics, Human Safari, Maccia Latte, Shanty Leaves, Scrolla, Cano, Kondo, Kiddo Jack Nobile, Il Signore Oscuro, Indy Series, Marcello Ascani, Mr. Blob, Kiki Makeup e Deadpool Let's Ci vediamo lì alle 14, Piazza San Marco Non lo dimenticate Eh!